Siamo arrivati ieri a Buenos Aires e adesso partiamo da casa di Daniel per il Ciago che è una zona che dista dieci ore di macchina da qui ma lì cominceremo la nostra prima caccia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.